L'alta pressione, che da giorni staziona sull'Italia, non ne vuol sapere di andarsene, con aspetti positivi ma anche sgradite conseguenze. Se da un lato le condizioni meteorologiche di questa prima metà del mese di ottobre stanno venendo incontro al desiderio di caldo degli italiani, o meglio, alla necessità di ritardare il più possibile l'accensione dei termosifoni per risparmiare su gas e bollette, dall'altro portano con sé una penuria di precipitazioni, solitamente caratteristiche del periodo autunnale, tanto attese per l'agricoltura e per reintegrare le scorte d'acqua delle falde e dei monti prosciugate da un'estate torrida oltremisura. Una situazione generata da un anticiclone subtropicale, strano per questo periodo e persistente, spiega Vittorio Marzio di Meteovalnure.it, bloccato nella sua posizione e destinato a rimanere almeno fino a metà settimana. Le temperature sono superiori di 4-5 gradi rispetto alle medie di stagione, prosegue l'esperto. e le conseguenze sono foschie mattutine anche a causa della mancanza di ricircolo d'aria alle basse quote. La conseguenza peggiore è l'assenza di precipitazioni, spiega ancora Marzio, che sono del 25-30% in meno rispetto agli standard e da inizio ottobre sono praticamente a zero. La speranza, per il momento, è riposta in un vortice ciclonico che dalla seconda metà della settimana dovrebbe scendere da nord-ovest portando con sé alle piogge. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.